Sì, l'ho definita un'edizione speciale, l'ho definita un'edizione della ripartenza, è una fiera che può essere considerata come se fosse nuova, anche se è la 59esima edizione che partiva da molto lontano e avrà un futuro molto lontano. È una fiera particolare perché dobbiamo attenerci a tutte le esigenze per la sicurezza, per la sanità e quindi rispettare tutte le norme e i regolamenti che ci vengono imposte dal protocollo nazionale delle fiere nazionali. È una novità farla a settembre perché non l'abbiamo potuta fare prima, nel mese di aprile tradizionale. A settembre è una novità ma fino a un certo punto perché forse dal 1300 al 1800 le fiere a Langiano si svolgevano proprio a giugno e a settembre e quindi con la figura del mastro giurato che era quello che giudicava e nello stesso tempo guidava le fiere. È una fiera speciale perché gli espositori sono stati così attenti e stimolati a tornare alla prima fiera del settore agricolo che si fa in presenza in Italia. Certo, era del resto necessario, era un obbligo farlo. Siamo stati costretti tra virgolette dalle norme ma lo abbiamo fatto volentieri per permettere alla comunità di partecipare a questo evento con la massima sicurezza. Quindi abbiamo applicato tutte le norme che sono previste dalla presenza di procedure, di controllo, distanze interpersonali di almeno un metro, indossare la mascherina, sono le cose fondamentali, l'igienizzazione delle mani. Abbiamo anche previsto un sistema di monitoraggio degli accessi automatizzato che ci permetterà di verificare la temperatura del soggetto e del visitatore ma anche il controllo del Green Pass che è obbligatorio per i soggetti che visiteranno la fiera. In più abbiamo pensato di utilizzare questo sistema di controllo degli accessi per igienizzare le persone che entrano nella manifestazione passando attraverso un tunnel che permetterà di fare questo.